Ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini. Coda per la viabilità esterna che non riceve la Firenze-Pisa-Livorno, siamo all'Astra Assigna provenendo da Firenze. Traffico rallentato sulla 1 tra il Vivia 1 variante di Valico e Sassomarconi verso Bologna, mentre in direzione Roma c'è un veicolo in avaria tra Incisa, Reggello e Valdarno. Ci spostiamo sulla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, materiali dispersi in direzione di Genova. Ricordo ancora sulla 1 direttissima, giovedì notte dalle 21 alle 6, chiusa tutta la 1 variante verso Roma, contestualmente chiusi gli svincoli di Badia e di Firenzuola in entrata verso Roma, in uscita provenendo da Bologna. Passiamo ai treni, il regionale 19122 Grosseto-Siena è cancellato, viaggiatori con un treno straordinario, partenza alle 14.05. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.